Ma 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 Puoi andare di la mamma Una 132 Siiii Ciao ragazzi bentornati sul mio Canale Oggi ci ritroviamo in un video totalmente Differente dal solito in questo momento mi sto allontanando E l'audio mi sentirà male Tenermi il microfono vicino Siamo in un video molto diverso Dal solito avete presente quando un gioco Scaricato su play store Ti permette di girare la ruota e trovare Dei premi, dei soldi e poi trovi sempre il premio Più basso, oggi sarà possibile Grazie a Drake Mall che mi ha dato l'opportunità Di avere un account premium e quindi Di avere più possibilità in un gioco Simile, nel frattempo che io lo vado a cercare Drake Mall che poi tra l'altro si chiama come Me Drake, devono copiare sempre I nomi, possiamo vedere entrando nel sito Che ho caricato 100 dollari però Ho un account premium e questo vuol dire più probabilità Di trovare un qualcosa, a me poco Importa perché Drake Mall mi ha dato l'opportunità Di fare oggi una specie di pack opening Soprattutto io ho scelto La libertà di aprire diversi pacchi Senza sapere cosa posso andare a trovare Appena ho qualcosa che mi soddisfa, farmela Ritirare e poi ovviamente farvi vedere che Sul serio arriva, però prima farei dei Piccoli test per Allungare il video, devo essere sincero Come vedete, questo qua è il sito, abbiamo diversi Pacchetti, pack opening Abbiamo chip case, toy case Quindi il pacchetto dei giochi, del Calcio, dell'elettronica Dell'android, tutto, tutto I export case, ah no, export Ok, EA sport EA sport Va bene, ok ragazzi Abbiamo il gamer case, l'apple case Che non sarebbe male E poi lo smart case dove vediamo un bell'iPhone X Che costa 99,99 dollari Nel frattempo bevo un po' di tè al limone Mia ma è arrivata Ma vieni un attimo Un attimo Vieni Scegli un pacchetto Veloce, a sensazione Questo android case Adesso spin Che rumore Allora tu se avessi utilizzato 15 dollari In questo momento avresti trovato Un cavo Un semplice cavo Direi di riprovarci intanto L'ultimo, l'ultimo, dai Qua potresti trovare anche l'iPhone X per esempio Con 9,99 dollari Tu andresti a trovare in questo momento Puoi andare di là a mamma Mia mamma non è tanto fortunata Ma io lo sarò di più Forse, non lo so Intanto direi di fare l'ultima prova Questo e-sport case Che costa 11 dollari Non sarebbe male Per esempio il monitor mi potrebbe servire L'appto 1600 dollari Vale bene Ma per quanto? Ma sei accanto? Qua si sta con un ciondolo Un ciondolo che non vale nulla In poche parole Bene Intanto direi di bene il mio tè Adesso però sono indeciso Tra Apple case e smart case Io andrei di Apple case Che costa anche la metà Proviamo sì Facciamo open case L'abbiamo Ok, ok Mi hanno tirato i soldi Perfetto Adesso se io non trovo un qualcosa di buono Vale 80 dollari Ma non mi interessa proprio nulla Sell item Me li dovrebbe ridare 132 Fantastico Ho più dollari di prima Perfetto Io direi di riprovarci Non è male che devo avere Tanta probabilità Di trovare un qualcosa Esatto Quanta probabilità Di trovare un qualcosa Che costa 9 dollari Me lo fai trovare un qualcosa Di carino Per favore Dai Qualicosa di bello Mamma Vieni un attimo Devo fare una piccola valutazione 1600 dollari Ti faranno venire In questo momento In questo momento ho trovato l'apple macbook pro Che vale 1600 dollari Lo rivendo O me lo prendo Me lo vendo Ho 1600 dollari Ormai posso aprire a volontà Basta Io voglio l'iPhone X Punto Voglio l'iPhone X Ma là Ma perché non si ferma Open case Open case Open case Perché non si ferma Guarda cosa mi fa trovare Per favore Dai Guarda Non c'è Quindi adesso Bello Questa è bella Bellissimo Non me lo fai Dove fare Tranquillo Tranquillo No no Mi prende per il culo Niente Oggi Mi do a prendere sto cavo Basta Lighting to jack adapter Bene Hai più probabilità Di trovare Sì 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 Proprio Io sto cavo Penso me lo comprerò Sul serio Di nuovo Di nuovo Sì Amen Amen Dio Grazie Ci sono riuscito Per la prima volta Ci sono riuscito Dopo secoli Finalmente Ci sono riuscito Amen 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 Mamma Ce l'ho fatta iPhone X Da 1400 Dollari Su sito Allora funziona Solo per me magari Però funziona Adesso andiamo Nel mio profilo Prodotti Prodotti Eccolo qui Eccolo qui Apple iPhone X Andiamo su deliver all E bene Adesso dobbiamo compilare il tutto Ok ho compilato tutto Quindi penso e spero che presto mi arrivi questo iPhone X Se stava divertente Però non so se vi consiglio il tutto Vi lascio sempre il link in descrizione ovviamente Però ripeto Avete una probabilità molto Ma molto molto Minore Detto ciò ragazzi Io vi mando un grosso bacio Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci siamo prestissimo Con un altro video Vi mando un grosso bacio ancora E qui come sempre Derecchè è tutto Bella Ciao